Signor Carletti? Sì? Sono Laura Pallari dei servizi sociali Cosa? L'appuntamento di oggi alle 14 Ah, sì, l'appuntamento Certo, come no? Un quarto d'ora a casa sua La stavo aspettando Signor Maurizio Carletti di anni 36 Professione saldatore autista Sono un tipo tranquillo Certo poi quando mi fanno uscire dai gangheri magari Che cosa scrivi? Appunti Per le relazioni? Sì Ok Allora, perché non ha riaccompagnato lei e suo figlio come d'accordi? Un improvviso impegno di lavoro Di domenica pomeriggio? Un'emergenza Allora lei mi sta prendendo in giro No, assolutamente Carletti! Lei non ha idea di che relazione posso scrivere Ma che c'entra adesso la relazione? Ma lei mi sta cacciando di casa E lei mi sta ricattando Questo rientra nelle sue competenze Beh, dipende dai casi È staccato È staccato No, ma lei completamente fuori Gli dica all'avvocato che sono il suo cugino Maurizio E che se non mi rispondo non lo pago Non c'è nessuno Non c'è nessuno Bene, basta No, 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 no Lasci la forza Ma capito? Allora, qui siamo fra adulti per favore eh Carletti avrò immediatamente questa porta No! Non avrei dovuto fare le domande su tutta questa storia Perché non è di mia competenza Mio Dio, ma sarà possibile fare una conversazione che è una? Stiamo venendo a prenderti No! 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 No!